Bene amici, allora, oggi io stranamente, curiosamente, insolitamente non ho affatto i dati della variazione dell'occupazione negli Stati Uniti. L'employment rate o non farm payroll, tutti i primoverdi del mese c'è questo dato molto importante e il secondo mercoledì del mese il FOMC alle 20, sono i dati più importanti di tutta la mesata. Non l'ho fatto perché non mi sento a posto con la testa, non mi sento che sto operando correttamente, quindi ho fatto poche operazioni, ho portato a casa qualcosina, il minimo sindacale, ma mi basta. Insomma è meglio rimettersi, prima di spingere, rimettersi a posto, se no si fanno solo danni e disastri. Ma merita un approfondimento su una cosa in particolare, cioè che i dati spesso e volentieri sono un grande vantaggio, ma molte persone hanno paura e preferiscono stare fuori. Vi dico la mia. Sappiamo che i dati di solito normalmente muovono tanto, abbiamo visto anche dati importanti come non far payroll che muove poco, raramente succede, ma in genere vediamo le stecche, quello che il mio amico Luca chiama i picchioni. Però vedo anche nella mia chat così altri amici trader che preferiscono stare fuori dai dati. no, no, muove troppo, troppo volatilità, si sta fuori. In realtà la volatilità è il pane del trader, perché i movimenti che spingono, fanno rotture, fanno proprio quelle rotture significative, avvengono con forte volatilità sul prezzo. E quindi cascasse il mondo, se vogliamo prendere delle direzioni da tenere un attimino, dobbiamo cercare la volatilità. Il dato è uno dei momenti di maggiore volatilità, perché oltre a volatilità del mercato c'è l'attesa ovviamente del dato e la volatilità della comunicazione del dato. Ora molti si focalizzano su quello che dice il dato. Io penso che quello che dice il dato non è importante, perché i nostri riferimenti non sono fondamentali, di solito almeno, non conosco nessuno che opera a grafico con riferimenti fondamentali. O se qualcuno lo fa è perché vuole darsi un po' di arie, ma alla fine i nostri riferimenti sono le medie, i massimi e i minimi, le solite cose tecniche, diciamolo chiaro. Sotto il dato avvengono le rotture e la volatilità è direzionale. Esistono anche gli stop, allora perché non fare il dato? Bene, vi dico invece che è un motivo interessante per cui pensare seriamente di operare sotto i dati, per due grandi vantaggi che noi trader retail cerchiamo. Il primo momento, il primo vantaggio scusate, è la volatilità. Cioè se noi abbiamo volatilità, è un vantaggio proprio per il fatto che la volatilità segna una direzione. Non vediamo mai lo scarabocchio volatilità sopra e sotto, è lateralità, non è volatilità, l'esatto contrario. Secondo vantaggio importantissimo, il tempo. Noi sappiamo, grazie ai dati, alle comunicazioni dei dati, il momento esatto in cui avviene un movimento significativo nel mercato. Allora, io per questi due motivi semplicemente dico, i dati sono una grande opportunità. Coglietela, se volete fare come me. Io prima metto un po' sulla testa, ma il prossimo mese li faccio, è come? Spero, se no, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi, mi raccomando, spero di avervi dato un altro spunto di riflessione, diverso dal solito, diverso dall'opinione comune. No, ma i dati, meglio stare fuori, troppo. Ragazzi, che state cercando dal trading online? Comunque, finito veloce, veloce anche questo video, senza grafici, vi faccio vedere velocemente un grafico di quello che è successo oggi con il non-farm payroll del 14.30. Eurodollaro, aspetta che sposto sta finestra che mi rompe il sole, Maroni, ok. Eurodollaro, picchione, USD Yen, picchione, USD CAD, picchione, sterlina dollaro, picchione, picchione dappertutto, tutto direzionale. Come? Da programma, con i dati. Quindi, concludendo, se vi è interessato questo video, potete anche dirmelo con il classico like. Io vedo che aumentano i like, se mi mettete il like, io capisco che almeno avete apprezzato. Potete anche non metterlo il like e scrivermi in un commento. Beh, guarda, è stato un punto di vista a cui non pensavo, io sono contento, vi rispondo, li leggo, eccetera. In ogni caso non me ne fotto un cazzo, quindi fate un po' come vi pare. Diciamo che è un modo, questo qua, del like, dei commenti magari per interagire. Se vi iscrivete al canale non me ne fotto un cazzo, anzi se pensate che io dico a cazzate, andate pure in giro da altre parti che vi dicono un sacco di cazzate. Sicuro. Ciao.